Buonasera, sono Lucio Caracciolo di Limes e ho il piacere di introdurvi a questo incontro che abbiamo organizzato insieme agli amici dell'ENI e che verte sull'ultimo numero della nostra rivista appena uscito dedicato all'Italia al fronte del caos. Ho il piacere di salutare i nostri ospiti di questa sera, vedo collegati l'ammiraglio Fabio Caffio, ammiraglio in congedo che in questo numero ha scritto un importante articolo corredato da altrettanto importante cartografia sulle ZEE, cioè sulle zone economiche esclusive di cui poi ci parlerà, l'ambasciatore Pasquale Ferrara che saluto e che oggi ha un incarico particolarmente dedicato che riguarda in particolare la Libia o quel che ne resta e naturalmente sul fronte invece di Dell'ENI abbiamo Lapo Pistelli, direttore dei Public Affairs ENI, autore anche lui di una conversazione molto importante in questo numero dedicata alla questione energetica nell'area mediterranea. In un paio di minuti il senso che abbiamo voluto dare a questo numero. L'idea cioè che il mare nel quale siamo immersi con una superficie costiera di circa 8.300 km è diventato un mare sempre più disputato, quindi sempre meno libero, con paesi che si stanno riarmando e con un'Italia che a me pare abbastanza inconsapevole o comunque indietro rispetto alle dinamiche in corso. L'aspetto geopoliticamente più rilevante dell'ultimo anno a mio avviso riguarda in particolare la nostra frontiera meridionale e ancora più specificamente le isole e la Sicilia più delle altre, cioè quella parte d'Italia che affaccia su quello spazio che abbiamo chiamato Caoslandia e che nella sua facciata nordafricana ha visto introdursi due potenze di notevole spessore e anche di notevole ambizione, che sono la Turchia, nostro alleato NATO ma che da tempo si è emancipata dal ruolo storico di sentinella della NATO nei confronti prima dell'Unione Sovietica e poi della Russia e ha ritrovato sue memorie imperiali e velleità espansive peraltro in parte realizzate insediandosi a Tripoli e la Russia che non ha bisogno di speciali presentazioni, diciamo è il nostro storico nemico della guerra fredda sotto veste sovietica, è un paese che dal punto di vista del nostro referente strategico, cioè gli Stati Uniti, resta nemico con la N maiuscola anche perché se non lo restasse sarebbe più difficile per gli americani giustificare la loro presenza in Europa e in Italia. Il fatto di avere a poche miglia dal nostro confine due potenze tra virgolette vecchie e nuove come sono Turchia e Russia in un contesto piuttosto caotico di crisi di ciò che resta di alcuni degli stati che si affacciano sul Mediterraneo e in particolare segnalerei in questa fase il caso tunisino a mio avviso oggi più grave persino di quello libico e appunto il tentativo di molti paesi di acquisire delle sfere di influenza marittime, volte sia al controllo di risorse e di rotte marittime, risorse energetiche, risorse ittiche e quant'altro, ma soprattutto anche per una questione di rango, di affermazione del proprio rango internazionale e della propria gerarchia nel sistema delle potenze, tutto questo credo dovrebbe essere materia di indagine e di azione da parte del nostro paese e certamente di interesse da parte di chi ci legge. Io pregherei di iniziare con un giro introduttivo che affiderei ora all'amiraglio Fabio Caffio che ringrazio. Prego ammiraglio. Grazie professore, buonasera onorevole, buonasera ambasciatore. Stiamo riscoprendo il mare, lo stiamo facendo in un momento difficile della vita nazionale, ma non potevamo più rinviare. Il mare che ci circonda non è più solo alto mare, come noi eravamo abituati a pensare, cioè il mare libero adibito alla navigazione, sorvegliato dalla marina militare, utilizzato per la pesca ed altri usi previsti dal diritto del mare. Il mare che dovremmo affrontare ora è quello della zona economica esclusiva, perché è noto che c'è in Parlamento e al Senato, l'atto Senato 2007, già approvato dalla Camera, che istituisce nell'ordinamento italiano la zona economica esclusiva, cioè una fascia di mare al di là delle acque territoriali, fino ai confini consentiti dal diritto internazionale in cui esercitare diritti sovrani. Quindi non una zona di sovranità, cioè non si tratta di acquisire altro territorio, ma una zona di responsabilità dove proteggere l'ambiente marino e dove proteggere anche le risorse naturali. In sostanza possiamo dire che la zona economica esclusiva si affaccia sull'ordinamento italiano proprio nel momento favorevole, nel momento in cui cerchiamo di rilanciare la nostra economia. Perché? Perché l'economia della zona economica esclusiva è quella della transizione energetica, prevalentemente. Non più soltanto quindi energie fossili, come era fino adesso nella sottostante piattaforma continentale, ma anche energie rinnovabili. Perché la zona economica esclusiva è il luogo di elezione delle energie ricavabili dal vento, prodotte dal vento, quindi nelle wind farms, nelle paleoliche offshore, oppure anche dalle correnti e dalle maree. Ma quello che è importante è anche che dovremmo realizzare un adeguato sistema di protezione ambientale, di protezione delle risorse. Tutte materie che sicuramente non ci portano a scontrarci con interessi contrapposti dai vicini, ma che potranno essere condivise con loro, cioè che sicuramente nelle loro agende ci sono. Ora si tratta di stabilire dei confini, dei confini che in attesa di accordo dovranno essere definiti in modo da compromettere il risultato finale. Qui sta il problema, perché noi abbiamo delle trattative, abbiamo intavolato già delle trattative con l'Algeria, l'Algeria ha avanzato una pretesa che noi non riconosciamo, perché si sovrappone ai nostri spazi marini. Poi abbiamo la Tunisia, poi abbiamo Malta e poi la Libia. Ecco, io credo che non sarà tutto sommato difficile raggiungere delle intese e medio tempo, fino a che non si raggiungeranno queste intese, potremo stabilire dei confini secondo dei principi precauzionali, cioè tenendoci ben al di qua della mediana. Ma tuttavia lasciando trasparire un messaggio sia da un lato di affermazione dei nostri diritti, dall'altro di condivisione degli interessi con i nostri vicini. Ecco, in questa cartina che abbiamo davanti, prego, prego mostrare la cartina. Ecco, in questa cartina che abbiamo davanti, questo è un mio esercizio, che io ho condotto insieme alla signora Laura Canali, bravissima come vedete. E quindi noi abbiamo, ad ovest, abbiamo il problema con l'Algeria. E quindi potremmo pensare a dare un effetto un po' ridotto alla Sardegna, perché sicuramente la Sardegna è un'isola che ha un notevole peso sulla delimitazione, cioè non può essere pretermessa come invece l'Algeria pretende. E quindi potremmo tenerci un po' qui, un po' al di qua, della mediana, in attesa poi di raggiungere dell'equidistanza tra le coste dell'Algeria e della Sardegna. Poi abbiamo il problema della Tunisia. Tunisia, un nostro paese amicissimo, con cui nel 1971 abbiamo stipulato un accordo sulla piattaforma continentale. Accordo che oggi possiamo dire che ci penalizza, perché non dà alcun effetto alle isole Pelace, a Bandolleria, a Lampedusa, a Linosa, ma che al tempo aveva una sua logica, perché in cambio i tunisini ci consentirono di pescare nelle loro acque territoriali. Lì c'è la famosa zona del Mammellone, una zona molto pescosa, un bassofondo di 50 metri, che però forse adesso si tratta soltanto di proteggere, cioè non c'è più risorse da sfruttare, ma ci sono un ecosistema da proteggere. E quindi non sarebbe difficile dividere questa zona con la Tunisia, ma sicuramente stabilendo il confine della colonna d'acqua diverso da quello della piattaforma continentale. Poi i nostri amici maltesi. Malta dal 1980 avanza una pretesa, direi, sproporzionata, tra virgolette, perché vedete tutta la linea tratteggiata in rosso che ingloba le isole Pelage e arriva quasi sotto la Grecia, fino al punto triplo con la Grecia. Ecco, questa pretesa possiamo dire che è sicuramente non realista. C'è una pronuncia della Corte di Giustizia nel 1985 che riconosce i nostri diritti sia a est che ad ovest. Quindi provvisoriamente potremmo attenerci a certi limiti che già conosciamo. Il meridiano 15-10, per esempio, ad est di Tri, di Malta, e fino al meridiano 16 potremmo stabilire una zona congiunta. Perché se vogliamo quello delle zone congiunte è la soluzione migliore, è la soluzione che meno danneggia gli altri e che è secondo un parametro di reciproci vantaggi. Poi la Libia. La Libia non abbiamo mai intavolato trattative, a differenza di quanto abbiamo fatto per anni con Malta, con la Tunisia e di recente con l'Algeria. Con la Libia scontiamo una mancanza di iniziativa, forse chiaramente derivante dal problema interno libico. Ecco, la Libia, voi sapete, c'è il problema del Golfo della Sirte, di questa linea di chiusura che qui è indicata, che non è riconosciuta a livello internazionale nemmeno dall'Unione Europea. Da questa linea di chiusura, che è lunga 306 miglia, parte la zona di protezione di 62 miglia. E poi c'è anche la zona economica esclusiva. Quindi è tutta quell'area, voi vedete, in giallo. Ecco, io credo che non sia difficile tener conto precauzionalmente dei diritti della Libia, rinviare a un periodo successivo il problema della Sirte. La Libia è stato sempre il nostro paese amico, lo è ancora di più adesso, quindi dobbiamo realizzare una soluzione che non metta in discussione i diritti della Libia, ma tenga contro anche dei nostri interessi. Quello che è importante è che il confine con la Libia sia il più esteso possibile. La Libia è il nostro vicino più importante, quindi è necessario avere un confine condiviso. Purtroppo Malta pretende di avere lei la parte più importante di questo confine, ma, come dicevo, la sentenza della Corte di Giustizia ha un po' indicato quello che sono le linee future. Quindi, in sostanza, stabilire dei confini provvisori, essere moderati nello stesso tempo, lasciare aperta la porta a soluzioni successive e soprattutto ricercare sia forme di tutela congiunte di queste zone di mare, sia anche Joint Exploration Zone, cioè aree di sfruttamento congiunto, che è la soluzione che l'ordinamento internazionale indica ogni volta che non ci si riesce a mettere d'accordo e lo indica come soluzione provvisoria. Grazie, Amiraglio. Grazie davvero, Amiraglio, per questo quadro. Credo che il suo lavoro specifico sul tentativo di delimitare una zona economica esclusiva italiana possa essere di aiuto anche al dibattito pubblico e a quello che accadrà in Parlamento, perché non dobbiamo dimenticare che noi arriviamo buoni ultimi in questa partita, cioè dobbiamo costruire una nostra zona economica esclusiva dove già altri hanno avanzato delle pretese e poi soprattutto una volta stabilito dobbiamo anche proteggerla. Lei ha parlato di Libia, credo che a questo punto l'ambasciatore Pasquale Ferrara ci possa dare un suo punto di vista anche per quanto riguarda la situazione interna alla Libia, che io preferisco chiamare Libie perché non mi risulta che esista un potere centrale in Libia accettato da tutti, mentre mi risulta che esistono in Libia delle potenze straniere che o direttamente si sono installate i vedi turchi e russi o indirettamente esercitano influenza, tra cui anche l'Italia. Prego, ambasciatore. Grazie, buonasera, ringrazio molto per questo invito. Partendo dalla Libia, il fatto che in Libia non ci sia un potere centralizzato e soprattutto legittimato secondo una procedura democratica, è la ragione del nostro impegno, non solo dell'Italia, ma dell'Unione Europea e della comunità internazionale. Quindi non siamo certamente a una situazione in cui possiamo pensare che questa frammentazione di autorità istituzionali possa essere perpetrata nel tempo. L'obiettivo è proprio quello di arrivare a un punto di caduta positivo dove tutti gli attori si sentono coinvolti e copartecipi della ricostruzione della Libia. Il discorso però, attenzione, del caos. Io apprezzo moltissimo ovviamente l'IMES, il numero in edicola è veramente fatto molto bene, però io mi permetterei un attimo di contestare amichevolmente l'estensione della nozione di caos a tutta la regione. Certamente abbiamo situazioni di conflitto, abbiamo presenze internazionali che le volte impediscono il raggiungimento di un'intesa tra gli attori interni, non mi riferisco solo alla Libia ovviamente, ma anche il caso siriano per esempio. però c'è anche una nostra tendenza, parlo nostra, diciamo europei, come europei, a considerare ogni diciamo cambiamento strutturale che avviene nel Mediterraneo in termini di possibile destabilizzazione. Io quando sono arrivato al Ministero degli Esteri nel 2010 a dirigere l'unità di analisi, è un aneddoto ma insomma mi sembra importante riferirlo, c'era uno strumento di analisi che si chiamava, riferito al Mediterraneo, l'arco della crisi. Io ho proposto che questo documento da quel momento in poi si chiamasse arco del cambiamento. Cambiamento non vuol dire necessariamente un futuro irenico di stabilità eccetera, ma il cambiamento in quanto tale è un fattore di cui noi dobbiamo tener conto e di cui con cui dobbiamo fare i conti. In quella circostanza, ricordo che adesso sono dieci anni dalla famosa inizio delle primavere arabe, noi diciamo europei pur essendo vicini, quindi il vicinato è un fatto diciamo che in fondo non si sceglie, è un fatto geografico in questo caso, abbiamo non sempre dimostrato di sapere essere anche prossimi di questi paesi, cioè nel senso di sostegno anche a queste transizioni complicate. La nostra reazione diciamola chiaramente spesso è stata basata sulla percezione di una distabilizzazione e sulla percezione di un rischio potenziale, il rischio securitario per esempio ovviamente del tutto legittimo del terrorismo, il rischio energetico, quindi che cosa succedeva con gli approvvigionamenti, non parlo solo dell'Italia ma dell'Europa in generale, il rischio migratorio. Io credo che questo non ci abbia fatto acquisire una grande credibilità specie presso le opinioni pubbliche diciamo del mondo arabo musulmano. Più che di caos adesso mi consentite di riferirmi a una metafora letteraria che io rubo a Elena Ferrante. Elena Ferrante introduce due neologismi nel suo lessico diciamo narrativo, il primo è la smarginatura e il secondo è la frantumaglia. La smarginatura che cosa vuol dire? La perdita di riferimenti certi e anche nell'ambito del nostro mondo euro-mediterraneo questo è avvenuto e sta avvenendo e il secondo termine la frantumaglia questa percezione del caos che però attenzione ha un suo senso perché spesso quello che noi percepiamo come caos è un modo indistinto a volte anomico di rispondere a delle esigenze fondamentali. A me non piace neanche il tema il lessico diciamo applicato al Mediterraneo del Mediterraneo allargato non esiste un Mediterraneo allargato esiste una profondità mediterranea al massimo esiste quello che Brodell chiamava il grande Mediterraneo noi siamo dei rimpettai di questa immensa area che è il Sahara e il Sahel come collegamento tra l'Europa e l'Africa è una zona spaziodinamica che non possiamo diciamo considerare in modo troppo approssimato a mio avviso l'altra dimensione che riguarda il caos e beh lì dobbiamo anche metterci d'accordo su qual è la fonte del caos alle volte io penso per esempio all'intervento militare in Iraq nel 2003 con le conseguenze diciamo di destabilizzazione che ci sono state in tutto il Medio Oriente penso anche per molti aspetti per quanto nessuno sia ovviamente minimamente nostalgico di Gheddafi a un intervento in Libia per il quale parliamoci francamente non sembrava esserci un piano per il day after e quindi diciamo è un caos sicuramente endogeno ma è anche un caos diciamo in qualche modo esogeno di cui forse abbiamo qualche qualche responsabilità non per assolvere diciamo delle leadership della regione che spesso sono la causa scatenante diciamo del caos interno ma per diciamo mettere sul tavolo una questione che la questione non è quella della sponda sud della sponda nord qui c'è uno spazio euro-mediterraneo ci sono interazioni politiche continue e parlo non della dimensione storica stratta ma parlo dal 1995 ad oggi con tutti i tentativi che ci sono stati di integrazione di approccio di sinergie con tutte le spesso le purtroppo le nostre promesse non mantenute la famosa grande area di libero scambio che dovevamo creare tra l'Unione Europea e tutta l'Africa del Nord e in generale Medio Oriente e Nord Africa quindi abbiamo perso alcuni appuntamenti con la storia questo non vuol dire che dobbiamo diciamo rinunciare a coltivare questa prospettiva integrativa io parlo di regole di ingaggio ma non in senso militare ma in senso politico diplomatico cioè fin quando noi non decideremo come paesi dell'Unione Europea e come istituzioni dell'Unione Europea di ingaggiare una conversazione vera franca aperta con questi paesi e diciamo dimostrare che siamo al fianco di tutti coloro che vogliono non tanto le rivoluzioni ma quantomeno le riforme un progresso verso una governance più aperta più democratica più inclusiva ecco fino a quel punto noi forse avremo qualche cosa da rimproverarci però secondo me c'è anche un'agenda positiva che possiamo possiamo coltivare e rifacendiamo appunto all'idea delle tre grandi aree del processo di Barcellona cioè un partenariato politico e di sicurezza un partenariato economico un partenariato sociale culturale e umano sulla sicurezza qui c'è un tema anche strutturale direi sistemico che probabilmente Mediterraneo e Medio Oriente ovviamente non lo sto scoprendo io molti assai più autorevolamente di me lo hanno rilevato già da decenni manca un meccanismo per la sicurezza regionale cioè se c'è una questione una crisi l'insorgenza di un dissidio che poi può degenerare in un conflitto o si risolve a livello bilaterale o si va al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in mezzo non c'è nulla o quasi nulla quindi io direi che uno degli obiettivi di questo ingaggio tra l'Europa e l'area del Mediterraneo e Medio Oriente deve essere quello di trovare insieme dei meccanismi che consentono di prevenire in conflitti prima che insorgono e prima di trovarci davanti a situazioni di destrutturazione di interi stati a questo punto a questo proposto definisco qui l'idea del caos che suggerisce una ingovernabilità l'anomia è vero fino a un certo punto perché il paradosso che noi abbiamo in quest'area è che ci sono o stati troppo deboli e quindi praticamente collassati o invece al contrario stati molto forti tetragoni che sono ben lontani dal caos inteso come anomia quindi abbiamo questi due estremi e forse una ragionevole via di mezzo tra questi due modelli potrebbe essere un campo di azione e di impegno del nostro paese e dell'Unione Europea grazie ambasciatore grazie anche per i suoi riferimenti semantici molto interessanti potremmo chiamarlo invece che Caoslandia Frantumaglialand ma insomma la sostanza non è che cambi molto il punto è che ci sono dei vuoti e quando ci sono dei vuoti vengono riempiti per esempio nel caso libico la crisi del regime di Gheddafi ha portato ma magari questo poi lo vorrà se lei crede trattare nella sua replica ha portato paesi rilevanti ad avere un ruolo decisivo oggi in quello spazio che ricordiamolo sempre l'abbiamo inventato noi perché la Libia non è un dato di natura ma è un dato di balbo vorrei adesso chiedere all'amico Lapo Pistelli di darci la sua visione anche magari volendo già intervenire su quello che è stato detto prima anche e soprattutto dal punto di vista che più direttamente segue e cioè quello energetico allora innanzitutto Lucio permettimi di come dire siamo a parlare di un numero che è appena uscito e rinnovo come in ogni circostanza complimenti per il numero io considero il numero che è uscito diciamo stamani mattina una sorta di sveglia di campagna d'allarme che tu hai mandato anche con questo titolo molto forte l'Italia di fronte al caos e con un editoriale particolarmente puntuto diciamo come ti ho detto rispetto ad altri rispetto alle responsabilità che il nostro paese o l'Europa hanno rispetto a questo contesto che secondo me è utile come dire raccontare anche a tinte forti come il numero fa perché bene o male noi siamo passati da un tempo nel quale il Mediterraneo veniva raccontato con una narrativa molto alta anche molto nobile era il bacino dove erano andate le civiltà il luogo di incontro delle tre grandi religioni monoteiste con tutto quello che ne consegue poi siamo passati a narrative di segno esattamente opposto cioè il Mediterraneo era semplicemente spazio di scafisti barchini naufragi e invasioni sostituzioni etniche e in qualche modo diciamo il numero ci permette di tornare coi piedi per terra o meglio forse coi piedi per mare e ci racconta uno spazio come tu hai detto nell'introduzione conteso dove si discute e si aprono molti tavoli per la delimitazione dei confini marittimi e dove dopo un anno nel quale per ovvi motivi per certi aspetti sia l'Italia che l'Europa si sono rinchiusi in loro stessi per cercare di curare le ferite del covid ancora non passate e forse il covid è stato anche una sorta di effetto di grande silenziatore rispetto ad alcune dinamiche sociali e politiche che in alcuni di questi paesi si stavano aprendo nel 2018-19 improvvisamente scopriamo uno spazio conteso uno spazio in cui tornano vecchi protagonisti è il caso della Russia e della rivitalizzazione delle sue mai sopite relazioni in Egitto o in Algeria ma insomma si affaccia con protagonismo silenzioso la Cina giustamente facciamo notare che proprio ad Algeria è stata costruita con finanziamento cinese la terza più grande moschea al mondo che il ministro degli esteri pochi mesi fa ha invitato gli studenti algerini certo è un'immagine però è un'immagine sostanziale e sostanziosa a studiare il cinese e la lingua del futuro insomma improvvisamente scopriamo che il mare nostrum è un mare di molta gente di molte persone nel quale è opportuno che il paese innanzitutto poi l'Europa riconfigurino quali sono gli spazi gli interessi non dico i confini ma le aree in cui esercitare una iniziativa politica quindi trovo il messaggio molto forte molto ben calibrato e indirizzato nel momento giusto ovviamente il Mediterraneo diciamo per Eni è uno spazio energetico molto importante in questo caso non suoni retorico è il primo paese nel quale Eni mette i piedi l'Eni di Mattei fuori dai confini dell'Egitto nel 54 quindi e da allora il Mediterraneo è stato un'area di progressiva espansione di attività energetiche che spingono oggi l'azienda di essere il primo operatore energetico in Tunisia in Algeria in Libia in Egitto Egitto e Libia sono rispettivamente il primo e il secondo paese di produzione ma di avere importanti titoli per nuove attività a Cipro in Libano eccetera però in questo caso se devo collocare in questo spazio affollato diciamo che il ruolo gioca l'energia per certi aspetti mi piace ma non per così per gusto di novità ma per per realismo e per un dato di realtà dire che la mia generazione che è cresciuta ad assemblee scolastiche in cui ogni guerra va in genere come motivazione del petrolio e in certi casi non è che proprio ci si sbagliasse almeno diciamo il petrolio l'energia era comunque una componente importante della contesa per il risurdo energetico per i conflitti e in questo in questo caso dico l'energia fino ad oggi ha giocato o il ruolo nel Mediterraneo di una storia di successo anche recente o è stato il campo in cui si è sperimentata una power politics muscolare fra questi nuovi attori ma utilizzando l'energia anche a discapito della razionalità cioè un fattore che poteva unire è stato utilizzato per dimostrare che si è forti allora un classico caso del primo esempio una storia di successo Israele ed Egitto Israele ed Egitto hanno avuto una storia di collaborazione energetica fino alla presidenza Morsi poi hanno litigato siamo andati a un arbitrato miliardario sulle proprie attività di scambio e oggi grazie a quella nuova organizzazione internazionale perché tale oggi è diventata dell'Ismet Gas Forum Israele ed Egitto assieme ad altri partner autorità nazionali palestinese Giordania Cipro siedono assieme e c'è un florido traffico energetico fra Israele ed Egitto dove la bandiera che sta sulla molecola energetica è stata smacchiata per cui nonostante è stata smacchiata nel traffico tra Israele ed Egitto ma è stata smacchiata anche nel traffico fra Israele e Giordania per cui nonostante alcune contestazioni diciamo di natura politica oggi la Giordania è un mix energetico fortemente dipendente dal grasso naturale israeliano che è diventato un fattore di sviluppo comune non un fattore di contrapposizione e che questo giochino sia un giochino interessante lo testimonia il fatto che in questa neonata organizzazione regionale nella quale l'unico paese non facente parte di quel bacino e che è membro fin dall'inizio del Popolo Italia di fatto anche in virtù del ruolo di player energetico che noi assicuriamo in quella regione lì vede oggi alla porta a bussare a quella porta la Francia gli Stati Uniti la Russia gli Emirati perché è un luogo in cui tramite l'energia si parla con tutti ovviamente quel pezzo di storia di successo c'è un pezzo di storia di insuccesso che è la contesa sempre nel Mediterraneo tra Cipro e Turchia che invece ha portato a un blocco delle attività in quel segmento del bacino quando poi ci si sposta a sud e in generale come dire riconfigurando guardando in prospettiva tutto il bacino è chiaro che noi lì come cane a sei zampe come Eni abbiamo praticamente più del 40% quasi il 50% delle nostre attività di produzione di riserve e di investimenti quindi siamo un potente fattore di sviluppo della sponda sud ma ci rendiamo anche conto che proprio il titolo a parlare delle risorse energetiche è diventato un campo nel quale pur avendo alcuni degli interlocutori bisogno di quell'energia preferiscono fare attività di spoiling sull'energia per dire voglio un posto a tavola anche io e questo è il caso della disputa come dire Turchia-Egitto che si è riverberata più recentemente in Libia dove l'azienda opera come dire da fin dai tempi della guerra del 2010-2011 senza particolari interruzioni di continuità senza particolari disruption e questo di fatto per due ragioni da un lato perché è vero che noi comunque rimaniamo il vicino del cuore dei libici con i quali quindi c'è un rapporto di grande fraternità e amicizia e dall'altro perché il nostro business model in Libia non prevede il prelievo della risorsa d'olio la vendita fuori le royalties il flusso ma prevede di sviluppare gas e trasformare l'energia elettrica per cui sostanzialmente la gran parte della nostra attività in Libia fornisce elettricità e quindi consumi quotidiani ai libici a nord, a sud a est a ovest però ci rendiamo oggi conto quanto questo paese soffra questa disputa che vede oggi una presenza fortissima turca e una presenza di profilo un pochino più modesto russa tramite il gruppo Wagner e questo possa tarpare in qualche modo le ali allo sviluppo libico che potrebbe essere veramente moltiplicato non ci dimentichiamo mai che anche se tutti questi paesi noi compresi siamo in una fase di impetuosa transizione energetica e per un po' di tempo ancora voglio dire soprattutto il gas naturale rappresenta un mix importante della nostra sicurezza energetica italiana e europea e per un continente che ormai è una scatola vuota di energia perché produce meno di un quarto del proprio fabbisogno che importa o dalla Russia o dal sistema del mare del nord avere una sicurezza energetica nel sud del Mediterraneo è molto importante che questo venga da Algeria e Libia o che questo venga dalla parte più orientale del bacino per questo avere in qualche modo una sveglia che dice guarda che non tutto va come andava prima ma oggi dobbiamo fare i conti con nuovi attori nuove pretese nuove richieste e che queste nuove richieste e che questi nuovi attori in fin dei conti nascono da un vuoto lasciato in qualche modo dall'Europa e anche dall'Italia è il caso emblematico che è il caso del governo Serrat e anche dall'America negli ultimi due mandati quindi non soltanto il mandato di Trump ma anche il secondo mandato del Presidente Obama nel caso europeo e italiano-francese il fatto che il governo considerato legittimo dalla comunità internazionale come dire alla fine abbia dovuto bussare alle porte di Ankara per poter trovare strumenti militari per potersi difendere rispetto all'iniziativa di Haftar che rifiutava gli accordi di schierate del 2015-2016 e dall'altra parte un ritiro di responsabilità americano che ha detto ormai da 8 anni a questa parte beh questo è un po' se è il mare nostrum occupatevene anche più direttamente ecco diciamo da questo punto di vista quindi io non so se il caos è soltanto un'immagine molto forte ha ragione l'ambasciatore Ferrara a dire che abbiamo nella sponda sud laboratori molto fragili come la Tunisia e paesi anche da un'identità molto robusta penso all'Egitto e penso all'Algeria e un paese oggettivamente in condizioni diverse come la Libia però se anche la parola non esprime in modo sintetico come dire la mediana dei paesi che abbiamo di fronte è un bel campanello d'allarme per la politica e dice guarda che questo mare non è più né soltanto il mare degli scafisti e neanche il mare dell'incorso delle religioni è un mare dove avvengono fatti politici fatti politici importanti nuovi rapporti di forza e dunque è il caso che prima che gli altri si occupino di questi paesi anche noi ci cominciamo a occupare un po' di più di questi paesi Sì grazie solo per specificare l'interesse a quest'area non è semplicemente un interesse diciamo puramente analitico visto che quest'area si affaccia sull'area più fragile del nostro paese che non sarà per fortuna ancora un'area di caos ma che in una crisi come quella attuale con diciamo la concentrazione della crisi covid la crisi anche interna del rapporto stato-regioni che è così resa evidente in questo frangente e naturalmente anche le vicende storiche del nostro sud con una demografia calante con un'emigrazione delle nostre forze migliori ecco il fatto che questo pezzo d'Italia sia così vicino a quell'area così critica credo che sia almeno dal mio punto di vista per noi assolutamente decisivo Ammiraglio Caffio ammettiamo che come io veramente spero la sua idea possa diventare nel giro di un tempo ragionevole realtà ma noi abbiamo i mezzi e aggiungerei anche la volontà di proteggere una zona economica esclusiva mi riferisco anche lei è un ammiraglio mi riferisco anche a quanto noi abbiamo oggi in dotazione come marina militare ma sa zona economica esclusiva non è distante più di 200 miglia dalla costa quindi stiamo parlando di zone di mari adiacenti di mari di casa tuttavia l'area da pattugliare sarebbe veramente grossa perché credo che raggiunga i 500 mila chilometri quadrati c'è un mare sconosciuto ci sono 120 mila chilometri quadrati di acque interne e acque territoriali e più di 400 mila al di là dei confini delle acque territoriali tutta questa grossa zona economica esclusiva richiederebbe sorveglianza per quanto riguarda anzitutto la tutela degli interessi perché una volta stabilito un confine sia pur provvisorio poi bisogna presidiarlo perché è presumibile che ci possano essere delle incursioni da parte di chi non ne condivide i limiti mi riferisco che ne so io a forme di giurisdizione cioè attività offshore non consentite una volta che abbiamo stabilito questa zona per fortuna cercheremo di stabilire delle zone congiunte mi riferisco a Malta soprattutto i danni sono in piedi dei discorsi di zone congiunte ora la Marina Militare per esempio già collabora con l'ex Ministero dello Sviluppo Economico ora MITE in storia della transizione energetica per quanto riguarda la sorveglianza delle aree della piattaforma continentale lo farà anche il futuro la Marina fa anche la sorveglianza quella che si chiama vigilanza pesca e speriamo che con la Libia stabilendo un confine sia pur provvisorio con la Libia si riesca a definire queste questioni di pesca ad avere accesso ai surplus della zona economica esclusiva libica nella zona tunisina ci stiamo dal 1950 figuriamoci un po' la vigilanza pesca la facciamo da anni Ammiraglio mi sente? Ammiraglio mi sente? volevo chiederle siccome prima l'ambasciatore contestava l'idea del Mediterraneo allargato lei è d'accordo con l'ambasciatore oppure no? si discute tanto di Mediterraneo allargato è sicuramente una nozione geopolitica che indica le aree di interesse italiane per esempio nel 2014 la Marina ha inviato una squadra navale tre unità principalmente il Cavour una rifornitrice una fregata che sono stati nel Golfo Persio e hanno fatto il pericolo dell'Africa propagandando il Made in Italy e anche l'approccio italiano all'umanitario cioè c'erano dei team medici durante le soste delle popolazioni bene perché quella missione? perché è un'area di potenziale interesse italiano chiamiamolo Mediterraneo allargato diciamo che i mediterranei possono essere tanti ma dobbiamo avere un'idea di quali sono le aree di possibili interessi sicuramente il Mar Rosso sicuramente il Golfo Persico lo stretto di Ormuz lo stretto di Babel Mandeb Gibilterra le aree adiacenti dell'Atlantico poi c'è anche l'Indo Pacifico il futuro è anche l'Indo il mar cinese meridionale però io credo che dobbiamo avere i piedi per terra in sostanza gli orizzonti non devono essere troppo lontani se no poi ci dimentichiamo come succede la frontiera marittima sud che per anni abbiamo un po' tralasciato sono d'accordo con lei e quindi anche sotto questo profilo sono d'accordo con l'ambasciatore noi stiamo ragionando come se fossimo gli Stati Uniti d'America che hanno 16 flotte in giro per il mondo noi abbiamo una portere che ancora deve montare degli aerei credibili di quinta generazione quindi insomma non è proprio il caso invece di concentrarci sulle aree dove c'è un rischio effettivo e dove ci sono delle potenze che non hanno poi tutte queste diciamo caratteristiche umanitarie ma hanno interessi geopolitici piuttosto precisi allora tornerei all'ambasciatore chiedendogli se crede di entrare un po' anche nel merito della questione russo-turca in Libia noi abbiamo oggi una sorta di vallo informale ma anche fisicamente già in via di costruzione che va da Sirte a Giufra che tende a bipartire sia pure in maniera grossolana una cirenaica da una tripolitania senza dimenticare il Fezzan che è un'area assolutamente strategica lei crede che questa frattura possa essere composta ed eventualmente come? E soprattutto russi e turchi vanno d'accordo oppure no? Sì facciamo un breve passo indietro a questa questione del Mediterraneo allergato cioè la mia non era tanto una contestazione ma io credo che nel Mediterraneo ci sono diversi quadranti ognuno va analizzato per i meriti specifici per esempio avendo fatto l'ambasciatore in Algeria e vedendo anche gli altri paesi del Nord Africa noto che c'è negli ultimi anni una prevalenza della dimensione longitudinare cioè diciamo la direttrice africana ha acquistato molto più rilevanza anche politica rispetto a quella tradizionale del mondo arabo della stessa lega araba con il golf ovviamente è un altro discorso però effettivamente sono nuove dimensioni di cui dobbiamo tener conto per quanto riguarda la presenza straniera diciamo militare anche combat mode diciamo in Libia è evidente che noi siamo assolutamente in favore a una riconquista se vogliamo della sovranità nazionale libica per fare questo c'è bisogno e torniamo al punto cruciale di un governo forte ragionevolmente nazionalista in senso positivo in grado di affermare diciamo il controllo del territorio anche sotto il profilo diciamo delle forze militari legittime quindi qui non c'è solamente ovviamente la presenza militare straniera ci sono le milizie c'è una diffusione una dispersione diciamo della forza invece del monopolio della forza come dovrebbe essere in uno stato moderno quindi questo è l'obiettivo come ci riusciremo diciamo certamente non basteranno le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ammesso che diciamo si riesca a trovare la quadra visto che indirettamente uno dei membri del Consiglio di Sicurezza è coinvolto in questa vicenda ma ci riusciremo sicuramente per la strada nazionale libica c'è poco da fare insomma ora io vorrei su questo fare una precisazione perché visto che si è parlato molto di questa presenza incombente della come dire dell'hard power se vogliamo che nel medio e nel breve periodo sembra vincente ci sono i russi ci sono i turchi che tra l'altro rispondono a due agende completamente diverse la Turchia probabilmente sta strutturando una presenza anche in vista di un ritorno di carattere economico commerciale infrastrutturale la Russia più una proiezione che non riguarda tanto il Mediterraneo in quanto tale ma probabilmente la direttrice appunto africana ma a parte questo io credo che nel breve periodo queste operazioni militari sembrano vincenti diciamo sembrano prevalere sulla diplomazia sul dialogo sulla su una come dire una conversazione piuttosto che sulla sull'imposizione io credo che però la storia ci insegna soprattutto nel Mediterraneo guardate questi interventi militari prima o poi generano un rigetto a livello di società e anche a livello di leadership che prima o poi verrà io ne sono sicuro di questo quindi questa enfatizzazione dell'hard power come qualcosa che può modellare nel medio e lungo periodo il futuro del Mediterraneo in particolare della Libia mi trovo abbastanza scettico e tenete presente che poi secondo me per essere influente non c'è bisogno necessariamente di mandare gli eserciti cioè io credo che lo strumento militare sia uno degli strumenti ripeto più aleatori alla fine di tutti quelli disponibili è molto più incisivo un rapporto fiduciario un partenariato alla pari cioè il rispetto dell'interlocutore aiutare un paese a rimettersi in piedi con le proprie forze io credo che questo sia la strada la strada giusta poi ovviamente si tratterà di fare in modo che questa situazione non abbia conseguenze di carattere strategico di lungo periodo io questo ripeto non non credo che possa avvenire ed è questa la ragione per cui si lavora a una Libia con un governo forte democratico e legittimato non perché siamo amanti della democrazia elettorale o delle istituzioni formali perché credo che questa sia l'unica strada percorribile ed efficace per riportare un po' di ordine appunto soprattutto in Libia riguardo alla presenza straniera ma poi in tutta l'area quindi noi siamo impegnati in questo con questo convincimento che non è una vaga aspirazione utopica irenica cioè è il massimo di realismo secondo me di cui un paese come l'Italia deve fare professione e su cui deve investire tutte le sue risorse sì le faccio solamente un piccolo esempio su cui mi piacerebbe avere la sua opinione noi abbiamo appoggiato a lungo il governo di Al-Serraj poi quando Haftar è arrivato quasi alle porte di Tripoli Al-Serraj ci ha chiesto aiuto ma aiuto nel senso di protezione militare perché lì si sparava noi non gliel'abbiamo dato e sono arrivati i turchi quindi evidentemente qualche relazione c'è tra la politica e la forza oppure no no c'è sicuramente ripeto io non dico solamente che ha le gambe corte cioè tra l'altro dobbiamo anche ricordare qual è il contesto perché di che cosa stiamo parlando cioè l'Italia ha una costituzione che impedisce l'uso della forza per risolvere le controversie internazionali tra l'altro lo proibisce anche la carta delle Nazioni Unite se proprio vogliamo andare a vedere tanto è vero che c'è un consiglio di sicurezza che combina delle sanzioni quando vede minacce alla sicurezza internazionale ma ripeto questo per noi è veramente un tema cruciale cioè si tratta di capire come noi pensiamo di voler risolvere le questioni internazionali vogliamo risolvere con la forza o con il negoziato con la politica con la politica io credo che la politica nel medio e lungo periodo sia vincente anche rispetto a quanti sembrano emergere come diciamo coloro che guadagnano posizioni attraverso l'uso dello strumento militare esistono anche altre risorse che noi possiamo militare abbiamo delle risorse con la Libia anche relazionali sono state menzionate io credo che nessun paese a lungo andare possa tollerare di essere sotto una sorta di come dire condizionamento dovuto alla presenza di eserciti stranieri questo mi pare chiaro grazie ambasciatore Lapo Pistelli ma no ho ascoltato delle cose molto interessanti anche perché ha ragione Ferrara quando dice che il nostro paese ma in generale la cosiddetta comunità internazionale non è sciolta da vincoli nel momento in cui elaborano una propria politica estera deve tener conto di vincoli interni costituzionali e di principi del diritto internazionale verissimo è una cosa verissima penso che anzi uno dei dilemmi in generale che negli ultimi anni chiunque si diletti non necessariamente abbia responsabilità ma abbia passione per le questioni internazionali ha di fronte sul tavolo e non può non farci conti è il rapporto fra come dire la politica chiamiamola così disarmata che deve procedere secondo i canoni che Pasquale Ferrara ci ricordava e quella che ho definito prima power politics che alla fine impone degli stati di fatto che sono magari contrari al diritto internazionale contrari per certi aspetti ai principi a cui ciascuno di noi informerebbe le proprie azioni ma producono fatti sul campo con cui poi alla fine è necessario confrontarsi e questo credo sia un po' l'esercizio difficile che oggi i governi i diplomatici hanno quando devono rimettere insieme poi non so se Caoslandia Frantumaglia o le altre il lessico spettacolare che l'ambasciatore Ferrara ci ricordava di Elena Ferrante però chiaramente nel momento in cui i vicini territoriali i proxies regionali e poi alla fine le ex superpotenze sono tutte sedute allo stesso tavolo con diversi ordini di influenza e diversi gradi di pressione l'esercizio diplomatico diventa terribilmente più complicato chiaramente poi io sono d'accordo che se uno vuole come dire fare non dico di necessità virtù ma imbastire una politica con quello che ha a disposizione l'ammiraglio Caffio ce l'ha detto con come si può usare al meglio la flotta che si ha l'ambasciatore Ferrara ricordava come dire come un disegno politico di più lunga lena alla fine secondo lui risulta vincente rispetto all'imposizione muscolare di breve periodo anch'io ritengo e lo potrei dire da un punto di vista energetico che in quei paesi avere impostato delle relazioni che hanno diciamo hanno traguardato alla crescita di valore condiviso più che al profitto di breve termine hanno investito sulle comunità e non soltanto negoziato un buon accordo petrolifero ha portato in questi anni non soltanto in Libia e non soltanto nella Libia martoriata di oggi ma in tutti quei paesi fin dagli anni 50 e 60 a costruire delle relazioni molto forti con le comunità prima ancora che con i governi e questo devo dire alla fine è un footprint un'impronta digitale diciamo così che in generale in quel continente ci è riconosciuta torno però su un'ultima questione che il numero diciamo in generale richiama all'attenzione degli analisti e dei decisori politici e che anche in qualche modo l'ammiraglio Caffio nel suo secondo giro di repliche ha evocato in qualche passaggio perché la Cina oggi la Cina è così distante così lontana perché giustamente questo magno non è più soltanto la connessione nord-sud in questa definizione molto brillante in questo tuo neologismo del medio oceano il mar Mediterraneo diventa la connessione fra l'Atlantico e il Pacifico ovviamente attraverso i canali gli stretti che conosciamo ma del resto non scopriamo oggi che i terminali della via della Seta arrivano sul Mediterraneo non scopriamo oggi che durante il rischio di fallimento dello Stato greco la Cina si è comprata il Pireo non scopriamo oggi che come dire le grandi compagnie di transshipment e di cargo commerciali hanno nel Mediterraneo le proprie basi logistiche andando ancora oltre dopo che pertanto si è parlato e si è visto anche perché quasi cinematograficamente molto evidente dei conflitti nel 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 golfo persico e nell'attenzione quasi tutta finalizzata sullo stretto di Ormuz e se uno guardasse cosa sta accadendo nel Mar Rosso da Babel Mandebri salendo su verso Suez si renderebbe conto che se per molti anni Djibouti è stato l'unica realtà che faceva da base di riferimento commerciale e perfino militare perché non soltanto lì la legione straniera aveva la sua base ma alla fine lì c'è stata una base inglese una base italiana che usiamo il paese usa per operazioni di profondità nel golfo una base cinesia sono arrivati tutti e poi vede scopre che sdoganato Djibouti oggi via via Emiratini Sauditi stanno costruendo porti e basi logistiche risalendo su Suez in Eritrea e in Sudan cioè la penetrazione di profondità per arrivare al Mediterraneo è diventato un gioco di contesa allora ripeto per questo il numero e il messaggio del dibattito di oggi è non un campione di allarmi è una sveglia non è più soltanto il mare Nostrum retorico non è più il mare descritto da Brodel non è più il mare degli scafisti e basta qui si vanno a incrociare una serie di disegni strategici in cui la geografia e quindi la geopolitica contano moltissimo di cui è utile che chiunque abbia responsabilità o economiche o politiche nazionali e internazionali come dire faccia bene i conti perché dopo un anno di generale letargo sanitario derivante da Covid la politica non si è fermata continua e ci presenta il conto grazie Lapo una risposta in 30 secondi quanto un accordo sulla cassa della rendita energetica potrà essere decisivo nel caso libico noi pensiamo che se ripeto se l'energia è stata sempre o molto spesso causa di conflitto in questo caso può essere uno dei fattori che soddisfa tutti i contendenti sicuramente deve soddisfare tutti i libici perché fino a che la Libia non fa un'azione decisa di differenziazione della propria economia la rendita petrolifera o tramite energia elettrica nelle case nei frigoriferi nelle lampadine di tutti i libici o sotto forma di stipendi pagati ai libici a nord a sud a ovest passa attraverso una riconciliazione e non è un caso che uno dei punti che poi l'ambasciatore Ferrara conosce benissimo anche di disputa e di dibattito politico è il rapporto che lega la stabilizzazione e il rafforzamento della NOC della National Oil Company a cui gli americani stanno dedicando grande attenzione i suoi rapporti con la banca centrale che è la destinataria delle revenues petrolifere la redistribuzione di queste revenues e il ritorno anche alla NOC di ciò che serve per continuare una politica di investimenti energetici questo meccanismo non si può rompere perché se si rompe si rompe una effettivamente delle architravi che tiene ancora insieme quella che io chiamo Libia Bene io ringrazio tutti coloro che hanno avuto la gentilezza di partecipare e di darci delle informazioni dei punti di vista estremamente interessanti il senso che noi abbiamo cercato di dare a questo numero è appunto il fatto di avere ora di fronte al nostro confine meridionale una zona vogliamo chiamarla di forte tensione in cui sono presenti delle grandi potenze in cui sono presenti delle grandi potenze in modo visibile ed altre in modo meno visibile ma forse più pervasivo e il riferimento è alla Cina mi pare che anche l'ambasciatore Ferrara lo facesse prima e l'hai fatto tu adesso perché appunto può essere che i turchi a un certo punto i russi siano costretti o vogliano tornare a casa io ho qualche dubbio ma potrebbe essere mentre tenderei ad escludere che la Cina voglia rinunciare a questa sua espansione dal suo punto di vista a mio avviso gestita molto abilmente un'ultima considerazione sulla questione dell'uso della forza ovviamente l'uso della forza è uno strumento estremo però l'uso della forza fuori dalla politica secondo me è un uso perverso noi purtroppo abbiamo spesso usato la forza al di fuori della politica insomma sì abbiamo una costituzione però abbiamo bombardato Pelgrado fatto colpi di Stato in Tunisia abbiamo bombardato Gheddafi con cui abbiamo appena fatto un accordo qualche giorno prima quindi non è che non usiamo la forza la usiamo fuori dalla strategia e questo è davvero pericoloso d'altronde abbiamo ancora oggi nostri militari presenti in Libia stanno arrivando forze speciali nel Sahel non credo che non possano non sparare perché lì si entra in una zona che i francesi considerano di prima linea nei confronti del terrorismo quindi io credo che quello che nella intervista in questo numero dice l'ammiraglio De Giorgi alla domanda abbiamo una strategia per il Mediterraneo e la risposta è no ecco vorrei che si avesse forse almeno la tentazione di provare a elaborare una strategia e poi di vedere se e quando e come applicare la forza cosa che appunto è risorsa estrema però avendo chiaro per che cosa lo si fa o per che cosa non lo si fa questo è io credo un po' almeno dal mio punto di vista la questione che stiamo affrontando ancora grazie all'ammiraglio Caffio all'ambasciatore Ferrara all'Apo Pistelli e alla prossima all'Apo Pistelli all'Apo Pistelli all'Apo Pistelli